ciao amici e soprattutto amiche oggi infatti parliamo di cellulite che colpisce soprattutto noi donne ma anche gli uomini ultimamente sì ma cosa devo fare per eliminarla stai a sentire per ottenere risultati che durano nel tempo serve un metodo sinergico per questo faccio tanti video sull'argomento oggi vediamo tre facili esercizi anticellulite che possiamo fare tutte se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 butterfly leg raise è semplice e mette in moto addominali aduttori delle cosce glutei e fianchi distendersi a pancia in su con le braccia distese lungo i fianchi e unire le piante dei piedi portare i piedi uniti verso l'alto ripetutamente attivando i muscoli addominali mi raccomando tenere la schiena aderente al pavimento e ripetere almeno 10 volte 2 gambe al petto distendersi i supini gambe distese e braccia lungo i fianchi portare le ginocchia al petto abbracciarle con le braccia tirandole verso il petto dopo qualche secondo riportare lentamente le gambe a terra ripetere per almeno 10 volte 3 cane la testa in giù posizione classica dello yoga ideale per distendere i fianchi tonificare le cosce le gambe e gli addominali mettersi a gattoni con le mani all'altezza delle spalle e le ginocchia alla larghezza dei fianchi puntare un piede sul tappetino estendere l'altra gamba indietro inspirare e portare la gamba all'altezza del bacino spingere il bacino in alto fino a formare un angolo di 90 gradi tra il tronco e le gambe espirare e riportare il piede a terra poi ripetere con l'altra gamba eseguire 5 ripetizioni per lato con movimenti fluidi e tranquilli non serve correre e la cellulite se ne andrà questo è un pezzo del puzzle per eliminare la cellulite serve una sinergia per questo ho anche scritto un ebook molto pratico e utile lo trovate in descrizione qui sul canale trovate tanti altri consigli nei miei video per vederli tutti iscrivetevi attivate le notifiche e abbonatevi per sostenere il canale in descrizione ci sono i link a due raccolte di video o playlist speciali per voi una su come combattere la cellulite e una con i migliori allenamenti trendy e sani contro il grasso e i chili di troppo muoviti sano e dimagrisci